Il Gran Chiu Blu preoccupa molto i pescatori. La Regione Veneto l'8 agosto ha chiesto lo stato di emergenza nazionale, il che permetterebbe di avviare ammortizzatori sociali ed altre forme di ristoro per gli operatori. A Portopila di Porto Tolle, nel delta del Pola, col diretti del Veneto organizzato in confronto con le istituzioni. Da maggio a giugno abbiamo avuto un'esplosione della presenza di questo crostaceo che sta annullando tutte le biocenosi lagunari e fluviali, con il rischio che a fine anno non vi siano più le vongole veraci nei piatti, ma purtroppo solo questo crostaceo, che è buono perché si nutre di vongole veraci e di cozze, ma questo territorio è investito sulla molluschicoltura e non su Gran Chiu Blu. Ci tenevamo che le istituzioni, in questo caso la più alta istituzione della Regione Veneto, venisse in quella che è la seconda marina più importante del Veneto, qui a Portopila. Alle nostre spalle ci sono ormeggiati una sessantina di pescherecci di altura e questo porto ne movimenta un centinaio, stiamo parlando di un valore che è attorno ai 40 milioni di euro. Quindi cerchiamo di capire proprio l'importanza di questo settore, non soltanto per il Veneto, ma direi per tutta Italia. E quindi proprio far toccare con mano il disagio che i nostri pescatori, qui abbiamo oltre 3.000 aziende di acquacoltura, stanno vivendo e credo anche un momento per ringraziarli perché se è vero che oggi le istituzioni sono così sensibilizzate rispetto al problema, lo è anche grazie al lavoro che loro da mesi stanno facendo per la cattura del Gran Chiu Blu. E se solo una parte può finire in pentola, resta il problema dello smaltimento. È un problema grosso perché al di là della piccola quantità che può andare per il consumo umano, il resto deve essere smaltito. Si considera che sono state fondamentalmente dall'inizio anno ad oggi catturate circa 450 tonnellate di Gran Chiu Blu e quindi l'idea della biodigestione, di portarle nei biodigestori è assolutamente vincente e cercheremo di autorizzare questa attività. I pescatori oggi chiuderanno il loro bilancio delle 52.000 tonnellate di vongole veraci, si pensi solo che quest'anno si segnerà un meno 80-90% e quindi si ritrovano a pescare il loro malgrado, un Gran Chiu Blu che vorrebbero non vedere e non solo non pescare.